e chat ragazzi io sono già qui tornati sulla mario geograf siamo ritornati anzi sulla mario geograf che da un po che non la portiamo oggi faremo una cosa bella oggi faremo la sala giochi credito io ne ho preso materiali si è un po tanti perché mi ha detto che non bastava li sono andati un'oretta ho fatto calcio istruzio nero nino ha fatto con loro blu e poi insieme di che cosa facciamo le pareti blu o nero no io volevo fare le blu il nero sinceramente ci serviva solo per aspetta che mi chiamano proprio adesso il blu prendiamo il blu non abbiamo preso i vetri allora facciamo tipo così facciamo la doppia eh ma non lo vedo muovere beh non fa niente come muovere il vaso? nì quanto grande lo vogliamo fare? 80 euro allora io lo farei due piani sinceramente però nino è morto è andato al paradiso Mi ha chiamato Nicolo così a casa GG per Nicolo, grande Nicolo Eccoci, allora Ma qua perché l'hai fatta larga due? Perché non è più figo Ma non è più figo, è tutto storto poi No Puoi contare il blocco Facciamo la porta di due qua in mezzo Io voglio fare due piani No, ma il muro di due non si può vedere, dai Puoi la palestra ha il muro di due No, la palestra ha il muro di uno Vabbè, ma è figo La palestra è figa Dai, il muro di due non si può vedere, ti prego Toglio il muro dietro Dai, ti prego, il muro di due Eh, sì, ho capito Facciamo gli angoli bianchi Eh, sì, è buono Fai i tuoi angoli Ok, va bene Aspetta che ora prendiamo subito il bianco Bianco, eccolo qua Prendiamo il white White color Yey Dobbiamo farlo l'arco ancora un po' Ok, fino qua Qua ci stiamo Ok, vedi quanti blocchi sono? Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Deve essere lungo fino a qua Sennò poi siamo dispari Ah, bello l'angolo Lo voglio fare anch'io l'angolo dietro L'ho fatto per me Eeeh Eh, non te lo so Eh, qua Errore, 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 errore Errore bianco Ah, eh, fallo questo qua E' brutto errore E' brutto errore La quarta di Maricemr Eh, non mi piace Non mi piace Eh, beh Eh, qua l'ha fatto lui E qua l'ha fatto lui E qua l'ha fatto lui Guarda qua, tutto blu E' giusto Qua tutto blu Ora metto apposto Ora metto apposto Perché Voglio dire quello che io Quanto alto? Eh, io voglio fare due piani Quindi 8 Qua è angolo 8 Quanto sto 3 1, 2, 3, 4 Allora Allora Qua metto un blocco 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deve essere alto fino a qua C'è la qualsiasi deve essere alto Adolto io Eh, fa vedere se la colonna è giusta Sì, ma è giusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oddio Metto un blocco ogni 4 Di mettere Qua ci vuole l'angolo bianco Eh, tu lo devi fare Tu lo devi fare Il tuo è bianco Mi servono tutti i blocchi bianchi Perché non ce lo faccio con una stack Qua Ok, 3 Fra Ah, fai così Tipo Al botto di farle tutte e tre Guarda, tipo qua Guardami eh Qua lo fai nero Qua, questo qua lo fai nero No, perché è nero Perché abbiamo preso il nero Usiamo Meglio la facciamo il paivento Ma è brutto il paivento È fego Ma non lo prendiamo il grigio Il grigio era bello Ok, ci sta così Dai, bellissima Poi fra come facciamo sopra Mettiamo tipo PS4, PS5 Allora, io volevo fare Tipo sotto C'erano gli schermi piccolini Capito? Sopra c'erano quelli più grandi Tipo le televisione Tipo le televisione Tipo le televisione Tipo le televisione Che però ovviamente costava di più Costa di più Tipo Aia, mi sono rotto Appena finisco a cagliare Sul suo Blu Faccio il pavimento Anche se credo Guarda, sai che forse Ce la faccio giusto giusto Così ci possiamo tenere Anche quell'altro Quattro qui Uno Due Tre Non so nemmeno male Sai, è bianco e blu E Quattro Ok Abbiamo fatto anche questo Aia Madonna Ma vabbè Io il parkour Non è cosa Non mi sa Ma i vetri dobbiamo mettere Oppure no Anche perché non ce l'abbiamo No, per niente Certo che devi mettere i vetri No Allora Vabbè Qua è fatto il uno più basso Allora il pavimento lo facciamo nero Hai fatto il blu di uno più basso Vabbè ce l'ho il blu Vabbè lo metto così Il pavimento sotto lo sì Lo dobbiamo fare nero Nì ma qua è sbagliato Ah no qua è giusto Quattro Hai fatto un blocco in più sopra Mario Io aspetta qua ho sbagliato Perché ho sbagliato? Dovevi farlo da dentro Non da fuori No mi trovi più bello da fuori Ma ci attacchiamo il tetto Ma ci attacchiamo il tetto Ah preciso Eh no Non ne ho più di bianco Sì sì ho capito Ma tu li vuoi fare tutti così Era difficile Ok ho fatto il pavimento Secondo me è carino Questo posso vedere il tetto Ehm aspetta Qua hai fatto lo spazio per le scale Ok facciamo le Ragazzi per il suo tempo L'arredamento lo faremo in un altro Penso lo faremo vedere Quando faremo un altro video La maricola direttamente Perché adesso Non abbiamo i materiali giusti per farlo Cioè abbiamo solamente i colori Comunque ragazzi Non so se Mario ve l'ha fatto vedere Ora vi porterò anche Vi portiamo anche a vedere All'interno dell'albergo Perché penso che non ve l'abbiamo fatto vedere No l'ho fatto vedere all'interno Perché alla fine l'abbiamo fatto No l'abbiamo fatto vedere Sì Alla fine ragazzi l'abbiamo fatto L'albergo all'interno L'ho fatto vedere Perché Non l'hai fatto vedere Sì Va bene come vuoi tu Scrivetemi le come Ragazzi scriveteci nei commenti Io penso che l'ave l'ha fatto vedere Così è brutto Non mi piace Ora ti piace? Eh ora sì perché non c'è il vino Allora le tolgo Vabbè finisci la tu Eh vabbè abbiamo finito Abbiamo finito? Ah no qua Ok ok Dovremmo aver finito Vediamo Vediamo da fuori Aspetta Dobbiamo togliere sta pillo Eeeh Servirebbe Qualche cosa Gli impio Secondo me Dobbiamo togliere Tu sta pillo Che hai fatto tu di quarzo Eccetera Allora Allora Si deve togliere La porta Ma non c'è Vabbè finito Allora mettiamo in un prof Nooo Ho tolto tutto io Non ci riesco Basta è finita Ho tolto tutto io No Aspetta Si Nooo Perché la vita mi vuole male Lì c'è un buchetto No Ma tolgo Faccio io Aspetta No tolgo Faccio io Bravo Ok Qui è giusto Qui è giusto Si Io farei tipo una cosa Questo è un blocco qua Questo non deve esserci qua No no Aspetta Lascia Lascia Si deve esserci Svegliate Ok Metti Aspetta Ok 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 Ci avrebbe qualche finissata davanti Eh bravo Fai le finissate Oh Sono Sono I buchi No Vabbè Si Deve rimanere due Due blocchi e due Qua sono due Ma qua è di quattro Ne è di tre Nino Che cosa Qua è di tre E qua è di quattro Qua è di quattro Uno Uno Tre Quattro Mi hai sbagliato No L'ha fatto altro tre Si Eh vabbè Vabbè comunque è figo dai Possiamo saltare Basta che si può saltare Eh lo so Ma 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 la finestra qua E nu Vabbè aspetta Aspetta mi vengono Sì Secondo me qualche Eh si Vabbè io voglio farlo col bianco Tu farlo col nero Vabbè No no Quasi è brutto Non mi piace così Mi piace più normalmente così Sennò proprio facciamo tipo così Così E' bello Sì sì Così va bene Allora aspetta Eppure l'idea tua era carina Possiamo fare Sai cosa possiamo fare Tipo così E così Ecco qua Ok No Aspetta Così Ok Ok Chiudiamo qua Questa finestra Facciamo così 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 Facciamo nera invece Perché Dobbiamo dare Tutti i materiali Ok E di qua facciamo una finestra Metà bianca E metà Blu Via 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 Così No Due Così Così Secondo me è venuto molto bello Però Devo ancora vederlo Cioè Almeno adesso Arriva qualche Cioè O del giorno Arriva un po' di luce Per esempio Facciamo 1,2,3,4 1,2,3,4 Perfetto 1,2,3,4 Perfetto 1,2,3 1,2,3 1,2,3,3 1,2,3,3 E io secondo me facciamo finire qua Poi lo vediamo Facciamo vedere No cosa che succederà No Perché capite brava Voi aiuto Allora Ragazzi Questo video Venire Ragazzi Aiuto 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 No perché Dalla bicicletia Dalla bicicletia Aspetta Dalla bicicletia Ok Oh Fontana vai Allora Sbagliato No mi fa shiftare Vai a veloce Devi tenere premuto Ok Vai a veloce Allora Ragazzi Questo video Può finire Lasciare Sbagliare E a Tiana Per E E Ciao Ciao